Roma, 2 novembre 2000, intervistato Leone Sabatello, intervistatrice Pupa Garribba. Mi chiamo Leone Sabatello, sono stato deportato nei campi di concentramento il 16 ottobre 1943. Io vorrei che prima però lei mi parlasse della sua vita prima della deportazione. Prima della deportazione ero un ragazzo che lavorava, ho sempre lavorato con mio padre. Dopo ci siamo mostrati costretti che ci avevano tolto i diritti civili e non potevamo più esercitare. Che lavoro faceva suo padre? Sempre a Rottami. E lei? Avevamo un magazzino in via dei banchi vecchi, il numero numero di ricorda. E trattavamo a Rottami. A mio padre gli toltono la licenza perché era di religione ebrea. E dopo mio padre non poteva più esercitare. Lei lavorava con suo padre? Io lavoravo con mio padre. E quanti eravate in questo... Eravamo quattro persone. Tutta la famiglia. Mio padre un altro operaio e più io. E dall'ultimo mio padre si scordia e giaggiò e lavoravo io in nero. Mi racconti un po' della sua famiglia. Era una famiglia numerosa la sua? Sì, eravamo sette figli. Io ero il più piccolo ragazzo. C'era un mio fratello che mia madre, mio padre l'aveva mandato in un amico a Ciampino. E lo fece passare come operario. E lavorava un... Faceva un alvino. Insomma, nel momento della deportazione ci vede se loro la vende a prendere. Aspetta un istante. Prima di arrivare alla deportazione, mi piacerebbe che lei mi raccontasse la casa in cui lei viveva, che tipo di... Era una bella casa, una bellissima casa. La sua casa com'era? Era una bellissima casa. Ci vivevamo bene. In via Porta di Fortale, numero 9. Stavamo... Erano 5 femmine e io ero più piccino di tutti. E mio fratello viveva in casa con noi. Stavamo tutti bene, bene. Io lavoravo lo stesso. e mio padre disfazionalmente non lavorava bene. E le sue sorelle che lavoro facevano? Le persone rammentavano dei calzoni. E anche sua mamma? No, mia madre no. Mia mamma si dedicava molto ai bubi di mio fratello che faceva le maldine, gli faceva dei puloveri, gli faceva per passare il tempo. E quindi vivevate senza problemi economici? Niente, non c'era problema economico. Non c'eravamo quello che avevamo allora, però stavamo bene, non c'erano problemi economici. I problemi sono cominciati con le leggi razziali. Sì. E mi vuole raccontare un po' di quel periodo? Era un periodo brutto perché noi viviamo in un quartiere, a parte che era molto bazzicato da molti fascisti. A mio fratello una volta uscì con degli amici e mentre usciva tutto quanto lo fermarono, perché c'era una gravata rossa, una gravata rossa a pallino. E gli dissero a mio fratello, perché porti questa gravata rossa? Il fratello dice guarda se vuoi che me la tolgo. Nel momento che se la tolgo tira fuori i documenti. Mentre tirava fuori i documenti gli vedono dei soldi in tasca. Dive c'è questo ebreo, guarda quanti soldi c'ha. Gli tagliarono con le forbici la gravata e mio padre allora stava in casa e sotto le finestre vede questo e gli detendono tre quattro vergate a mio fratello con un tubo di gomma. Per brutta esperienza quindi. Per brutta esperienza. Avete avuto altre esperienze di questo genere durante quel periodo? Sì. Io sono andato, spesso in buonetieri, andavo al cinema, che lo chiamavano al cinema centrale. Una volta vado con degli amici al cinema. Mentre vado dentro al cinema faccio questi ragazzi, guarda i biglietti faccio io, vado alla ragazza, pago i biglietti. Nel momento che gli offro i biglietti, quello che spezzava i biglietti mi ha dato un bazzone e io lo scrivo. Me ne dato un altro bazzone e lo scrivo ancora per lui. Io gli ho tirato solo un cazzotto. Lo feci guaribili in venti giorni. Mi hanno, la polizia mi ha caricato e mi ha portato allora. L'ha portato in questura? In questura, sono stato pure in cellula. L'ho conosciuto tutti, sì. E mi portarono a una cosa. Mi carcerarono, mi ha messo in una cosa. E mo' c'era un zio mio, che era insomma una persona conoscente, e in pochi minuti mi fece rilasciare. Quanti anni aveva quando ha avuto questo episodio? Ce ne avevo quattordici. Lei è nato in che mese, in che anno? Sono nato il 16 ottobre, no, il 18 marzo 1927. Nel 27, quindi aveva quattordici anni? Sì. Una brutta esperienza. E sono successe altre cose? Molte cose, che tu giocavi anche con dei cattolici, senza fargli niente, senza cose. Se esprimivano un verso di noi, basta con te non ci parlo perché sei ebreo. tante volte ci davano anche, rispetto parlando ci sputavano, e ci facevano delle cose. Quando ti credevi da stare incommigliato con degli amici, i cattolici, specialmente una famiglia che ancora esiste, ma lui quando mi vede abbassa la sera la testa. Me lo facesse adesso a tirare un po' di scuola. E c'è la trattoria Giggetto a Porti d'Ottoio, Franco, ma il fratello più grande che aveva, un alimentare a Piazza da Cosa, come si chiama, a Fontana di Trevi. Senta, ma lei fino a che classe ha fatto? È andata a scuola? Poco è andata a scuola, ho fatto fino alla terza elementare. Ha fatto fino alla terza elementare e finché è stata a scuola non ha avuto problemi. I problemi sono successi dopo. Quindi le leggi razziali hanno creato per lei un grosso problema. Voi vi aspettavate una retata? Avete dato i soldi alla comunità per i 50 kg d'oro? Sì, dopo sono stati 100. Ma volevo sapere, la sua famiglia ha raccolto dell'oro? Mi vuol raccontare questo episodio? La mia madre ha tolto la catenina e le mie sorelle. Diciamo, tutti i catenini con Shaddai. Io l'avevo donato e tutto quanto. Ne fece un sacchetto e noi l'abbiamo donato a cosa. Mi ricordo che mia madre e mia madre si avevano la fede e abbiamo contributo da tutto quanto a donare quello che avevamo. Stavate tranquilli? Non pensavate? Non si pensava. Manca immaginato. Mio padre c'era sempre in testa. Seppure ci portassero via. Perché mia madre, giorni indietro, aveva incontrato... Mia madre si metteva a un cantoncello, si portava alla sedia e stava tutto a fare la maglia. Metteva la sedia per strada? Sì. No, se la portava alla casa. La casa e la metteva per strada? Con un'altra signora, una benestante, che si chiamava Piperna. E si mettevano a farsi i puloveri, i maglietti per i bambini. Dice che una sera è venuta in casa mia madre e disse queste frasi. Dice ho visto scappare un polacco ebreo. Dice che in Polonia tutti i ebrei li ratunano e dopo ratunati li portano in prigionia. Ma che a noi c'era mio padre? Veniva mio padre e diceva, ma che ce la chiederanno? Una casa? Mi cederanno un pezzo di terreno per colpivare. Faremo il lavoro che c'è quello che c'è da fare. Ma non si pensava mai. Manco a mai di fatto. Che cosa si ricorda della notte del 16 ottobre? Mi ricordo che Pioveva. Pioveva? E lei era in casa? Ero in casa. La mattina alle 5 c'erano i tedeschi con i fascisti che passeggiavano lungo la strada. E poi che è successo? Dopo che cosa è successo? Eravate tutti in casa? Tutti in casa. Dopo è venuto un interprete e ci disse di ratunare tutto il necessario. Mia madre in casa lo faceva spesso. Quando avanzava un pezzo di pane, mia madre lo metteva nelle foderette dei cuscini e lo bruscava. Dice, questo servirà. Mia madre pare che ci aveva un presentimento. Sembrava che l'avesse provveduto. Dice, quando dobbiamo andare a fare un lungo viaggio. Dopo ci hanno portato da lì, ci hanno portato al Correggio Militare. Tutti insieme? Dove li hanno caricato? Ci hanno caricato, ha visto lei? Villa Caffarelli dove c'è la catena? Lì. E ci hanno portato al Correggio Militare, vicino a questa regina Celi. E ci ha dato, secondo le persone che erano, come tutti i box. E con la mia famiglia ci siamo radunati, ci sono venuti a dire se volevamo diventare cattolici. Chi ve l'ha detto? C'era un interprete lì. Un interprete ci disse se volevamo prendere la religione cattolica. Mia madre e mio padre hanno detto no. Dopo poco ci sono venuti a richiedere anche altri soldi, altro oro. ma non ce l'abbiamo. Che andremo a fare un lungo viaggio. Dopo siamo stati due giorni. Mi puoi dire quanti anni avevano i componenti della famiglia? Quanti anni aveva suo padre, sua madre, le sue sorelle? Non si ricorda. Non si ricorda. Lei quanti anni aveva? Io avevo 14 anni. Quando è stato deportato? Quando è stato portato io? Dopo ho fatto 15 anni. Aveva da poco fatto i 15 anni? Sì. Aveva già compiuti i 15 anni? Sì. E le sue sorelle erano tutte vicine a lei come età? Sì, mia madre e mio padre ogni due anni. C'è differenza ogni due anni. Eravate quindi una famiglia di figli giovani? Sì, 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 sì. Ho 5 sorelle. Tutti i giorni c'era mio fratello che stava nascosto a Ciampino. Perché si diceva che prendevano tutti quelli abili al lavoro. E io che ero vicino, ma a me mi prendono a me. Quindi suo fratello si è salvato? Sì, mio fratello si è salvato. Allora, adesso mi racconta cosa è successo. Poi dopo, quanto siete rimasti? Due giorni ha detto? No. Sì, due giorni, due giorni. E poi? E poi ci hanno portato la tibutina. Alla stazione? Alla stazione di Bordino. Non abbiamo messo la lapide di Bertini. Non è là. Ed è sotto, alla parte di giù. Che si entra da giù in fondo allo Scalo Merce. C'erano i vagoni. Erano 43, 44 persone. Per vagone? Sì. Come erano questi vagoni? Avevano i sedili? Un vagone, ma non c'è senza sedili. Un vagone aperto, dalla quale mia madre o mio padre prendemmo un cordino e messero in una coperta per fare le faccende alle donne. Abbiamo fatto un buco con un bidone dove le donne potevano fare, noi uomini si provavamo a sbrigare. Ma loro se... Tanti ci hanno portato a Birkenau. A Birkenau. A Birkenau. A Birkenau. Che tanti sbagliano. Chiamano settore 2, settore 3. Era Auschwitz, Birkenau. Era vicino. Era collegato. In dove mi hanno fatto il numero a braccia? 158.621. Che numero ha, se lo ricordi? 158.621. Me lo puoi far vedere? Ecco. Qui. Guardi in 6. E' stato sempre così. 158.621. Quanti della sua famiglia sono stati selezionati per rimanere nel campo? Il fatto che quando noi abbiamo impito la colonna, a noi ci hanno portato via. A voi chi? Tutti quelli erano abiti al lavoro. Quanti erano abiti della sua... 150. 143, 144, 146. Ma li hanno diviso prima uomini e donne? No, no, no. Sì, sì. Tutti uomini. Tutti uomini. E ho saputo tramite un polacco, perché io quando ho fatto la quarantena, noi ci hanno fatto fare subito la quarantena. Perché a noi servirono a loro, e noi l'abbiamo saputo dopo, che ci servirono operagli per le miniere. A me mi hanno visitato se ero abile a scendere 360 metri sotto terra. E ho lavorato. Sono stato 40 giorni. 40 giorni in quarantena. In quarantena. Senza lavorare. Senza lavorare. Tutti i dottori. Tutti in camice bianco. Da lì mi hanno portato a Jaditschowicz. Sarebbero 15 chilometri più avanti di Dauditz, di Bilkenau. E ci sono stato un anno e mezzo. E lavoravo in miniera di carbone. In tedesco si dice Kolkruppen. Vorrebbe dire miniera di carbone. A 15 anni. Sì. C'avevo la lampada. Io quando andavo in miniera. C'avevo la lampada. Era 243. Suaitra e un fissimi. Il numero della lampada. Volevo sapere una cosa. Lei era così giovane. Di solito i ragazzi giovani non venivano selezionati per il lavoro. Lei era già così alto, così romusto? Sempre la mia costituzione è stata sempre così. Non si ricordi lei. Quando sono rivenuto pensavo 40 kg. E qui non si vedeva la carne. Ma si vedeva le cose. Io tante volte mi facevo domanda dentro di me quanto sono diventato. Pensi che quando è venuto il secondo trasporto ebreo. Gli anni suizze. E io facevo la scuola perché la miniera deve stare sempre in funzione. E facevamo la scuola con l'altra squadra. Si incontravamo per strada. Noi facevamo tre chilometri e mezzo a piedi. E tre chilometri a ritornare. Un polacco mi fa italiano. Parliamo sempre tedesco. Dice. Blocco 13 ci sono italiani. Io sono andato a Blocco 13. E ho incontrato tutta la gente che io conosco. Loro si ricordavano a me. Come ero di costituzione. Già con un anno che stavo lì. ti veniva una malattia che ti mandava di corpo. Si chiama Cesarei. Ma era un lavoro molto duro. Quante ore al giorno dovevate lavorare? Lavoravo una decina d'ora. L'ho fatto pure la notte. C'è stata una volta che facevo Narci Breschen e facevo Breschen è un altro nome. Facevo la notte e il giorno. Ma che tipo di lavoro era? Dovevamo scavare? Dovevamo scavare. C'era una lastra di gomma che faceva così. Noi imparavamo il carbone. Ho lavorato pure con il martello Bromatico. Mettevamo dei cannelli. Cascava il carbone. Lo imparavamo. Lo mettevamo sotto. Si spostava sto nastro trasportatore. Capito? Ed era un lavoro giusto. Ho lavorato insieme. E' stato fortunato io. Perché ho lavorato con un civile polacco. Che mi disse a me. Che mi disse come me ne chiamavo. Gli faceva chiamare Leo. Dice lo sai che io a Roma. Lavoravo a Via Nazionale. Facevo il meccanico dentista. E lui mi diceva. E' bella sempre Roma. Dice si. E' sempre lo stesso. Allora gli dice io. Tu che mi dai i soldi. I geld. Io non li voglio. Non ci faccio niente. Fammi tre quattro carelli di più. Tu guadambi. E quello che guadambi mi porti. Dice Leo. Te la porterei di buon lì. Ce l'abbiamo poca pure noi. E comunque mi portava due panini. Due sottilette di pane. E me lo dovevo mangiare subito. Perché? Perché i tedeschi vedevano. Questo. Facevano subito. Che cosa hai fatto? Qualcosa. Dei traffico. Qualcosa. Volevano sapere perché. Io avevo sto pane civile. Perché era diverso. A quello che ci davano loro. Che tipo di vitto vi davano? Che cosa mangiavano? Un pane tedesco. Diviso in sei. Ce le davano un pezzetto. Io lo dico in tedesca. Wurst. Era salame. E un pezzetto di margherina. E ci davano una zuppa. Che era tutta un po'. Brotaglia. E questo due volte al giorno? Una volta al giorno. Una volta al giorno. Due appelli. Due appelli. Al pomeriggio l'appello. E la mattina appena uscivi dalla. Da. Da. Do dormiamo. Lo spazzesal. Lo spazzesal. Dove managgiavamo. E quell'altro. Dove dormiamo. Facevano l'appello. Subito. Rapper. Ci sentiva una campana. Con un binario di ferro. Faceva Lego in questa. Tutte queste baracche. E c'era uno solo dentro al campo. E va lo straibis. Quello che ci contava. Che c'era i capelli in testa. Volevo sapere. La sua squadra da quante persone era formata? Lavoravate in tanti? In tanti. Sì. Ognuno con una squadra. Ognuno con una squadra. E la sua squadra di quante persone era composta? La squadra mia. Io e un civile. Secondo le mansioni che ci davano. Perché lui aveva tutti i fogli. Secondo il lavoro che avevamo da fare. Ma noi in maggior parte facevamo i carelli. Empivamo i carelli. Li spingevamo. Li portavamo all'aggancio. Tante volte che ho lavorato pure al tiro. Che agganciavano i carelli. Tiravano su. E c'era la piastra che si girava nei carelli. E mandavi il carello là. Subito ne prendevi un altro vuoto. Lo mandavi giù. E l'ho fatto per parecchio tempo. Eravate naturalmente al buio con le lampade. Con le lampade. Con le lampade. E quindi stavate dieci ore al giorno in queste condizioni. E non potevate quindi fermarvi un momento. C'è chi vi controllava? C'erano. C'erano. I blocchi esterni. Capisci che erano i blocchi esterni? Sì, però lei lo traduca lo stesso. Erano i guardia... Erano tutti le desiche. Perché c'era il segno. Qui... La svastica. La svastica. E dopo io ho lavorato pure. In un periodo. Erano i primi, proprio i primi. In ultimi tempi. Ho lavorato per fare le buche. Perché i forni crematori sono bloccati. E facevamo le cose comune. Le fosse comuni. E io ero uno addetto. Che con una carriola. Portavo la calce bianca. L'ho fatto un mese quel lavoro lì. Che quando buttavano i carrioli. Io sopra questi carrioli. Ci buttavo questa calce bianca. Arrindavo là. Riagganciavo un altro po' dentro questa carriola. E li facevo sempre... Durante una giornata l'avevo fatto 200 volte. Lei aveva avuto notizie del resto della famiglia? Ma si vociferava che erano tutti eliminati. Gente che già... Polacchi che stavano da. Ma noi... Dopo emanava l'odore di carne bruciata. E ci dava la cola. Ci facevamo la noia dalla gola. Perché ti facevamo la gola. Emanava tutto a fumo. Ma veniva fino all'altro campo. E noi venivamo i fumaioli. I fumaioli che bruciavano. E la sua baracca quanto distava dal forno crematorio? Molto. Molto. Perché i forni crematori stavano nel centro. E messero, per non farci vedere a noi, tutta un'istinzione di tutti gli alberi che erano pini. Erano pini. Per non farci vedere che fumava. Fumava come una ciminiera. Ci mesero tutto un estratto di pini. Ha capito? Per non far vedere... Nella sua baracca c'erano altri italiani? Sì, sì. Quanti eravate? Si ricorda? Una trentina di italiani. Quindi tra di voi parlavate in italiano. Sì, sì. Lei non ha avuto quindi problemi con la lingua? No, io non ho avuto problemi con la lingua. Perché era già più di un anno questa cosa. E io facevo tante volte da interpretare. Che cosa è successo? Pure altri italiani che non capivano. Gli dicevo. Ma che cosa è successo? Mi ripeteva. E lui mi avventavo contro quello. Che cosa vuoi? Tu lo sai quello che dici. Che cosa hai fatto? Mi devi spiegare a me cosa. Invece... Poi capace questo poltogiano non aveva fatto niente. E io c'era questa stia. Senta, ma lei in tedesco come l'ha imparato? L'ha imparato lì? L'ho imparato in campo. Ma all'inizio come faceva? Sì. Atterravo una parola. Mi facevo spiegata da un polacco. I polacchi erano più di noi. Mi facevano questo. Mi sono trovato a parlare tedesco. Non ho manco messo. Gli giuro, mi ero dimenticato di parlare italiano. Senta, ma qualcuno si era accorto che lei era così giovane? Qualcuno l'ha protetto dei suoi compagni? Non l'ha messo. Però c'era quello che dici lei, che immagina lei. Quello che immagina lei c'era. C'erano molti uomini sessuali. Ah sì, molti? C'erano molti. Ma lei non ha avuto problemi? No, no. Per fortuna. Innanzitutto non ho avuto problemi e non mi sono dato a quello che vogliono loro. Certo. Capito male. Ha resistito? Ha resistito. Quindi si poteva resistere? Io la sera, signore, insieme con uno che è venuto, è difficile d'intracciarlo, che abita, si chiama Efradi, Efradi Marco, si chiama Efradi Marco, ha l'età mia. Lui adesso mi hanno detto, il fratello mi ha detto, il fratello c'è il banco, che sta ad abitare in un altro cimitero, come si chiama lì? Prima Porta. Prima Porta, abita là. Io con quei ragazzi, la sera mi venivano a chiamare, andavamo a rubare le patate. Signore, quando rubavamo le patate, uscivamo, si cipiavano e si impiccavano. Quindi lei riusciva in qualche modo ad arrangiarsi? Sempre, l'ho fatto sempre. E fino a che momento è rimasto lei nel campo? Ha visto arrivare le truppe russe? No. Non ho visto, sentivo i cannoneggiamenti russi. Però gli dico solo una cosa, che io sono stato liberato dai russi. quando io mi sono trovato, che ci hanno fatto invadere, ci stavano via dal campo, e io mi sono fatto 100 km. Io ho fatto la tradotta della morte. Quindi hai fatto la marcia della morte. La marcia della morte, l'ho fatta io. Quindi lei è uscito dal campo insieme a tutti gli altri. A tutti gli altri. Ho fatto tanti, tanti quando un'altra facevano, bastava uno raffico di mitra. Io mi sono portato, trascinato. Ogni tanto lo pegavo io e gli ho detto, andiamo, cammina. Però vedi che fanno? Calò Alberto. Calò Alberto. Calò Alberto, sì. Calò Alberto. Noi venivano a casa, giù a Portigliettoria. Lo chiamavamo, per rispetto, Zio Cuccio. Lo chiamavamo Zio Cuccio. Era il padre di un mio amico. Zio Cuccio, cammina, cammina. Diceva, non gliela faccio più. Zio Cuccio, guarda, fanno brutte e finita. Siamo venuti a una stazione, dopo avevamo fatto 100 km a piedi. dietro la mia parola, ho visto dei sacchi. Dei sacchi che fumava. Fumava. Lei pensi che il freddo che faceva, faceva 30 gradi, 30 gradi. Io mi sono portato sopra questi sacchi, che ero finito. Poggiandomi sopra questi sacchi, faccio con la lingua così, sento dolce. Erano tutti sacchi di zucchero. E lo zucchero, c'è una cosa che diventa nero lo zucchero. Io ho sgarato il sacco e ho trovato questa roba bianca. L'ho assaggiato e era zucchero. Ti lascio immaginare quando l'ho mangiato. Si è ripreso un po' di forze. E a piedi fin dove hai arrivato? Io sono arrivato a Brandenburg, vicino a Berlino. Da lì mi hanno portato sempre i tedeschi. Mi hanno portato in Albe Stato. Io ancora lo sapendo dove ero in Albe Stato. C'era dietro a una casa cantoniera. Dietro a questa grande casa cantoniera c'era un piccolo campo. Che lavoro mi hanno messo a fare? Mi hanno messo a fare le buche, quelle che facevano i bimotti. E riportarono un'altra volta la calci. Lo stesso lavoro. Mi domandarono se lo conoscevo su questo lavoro. Un altro campo ho fatto uguale. Un altro campo ho fatto uguale. Io ci facevo tutto il giorno. Andavo a prendere la vasca grande. Questa calci. E la buttavo sopra i cicatari. Morivano tante persone in quel periodo? All'appello specialmente. Quando stavamo all'appello. Vedevi ogni tanto uno che si accasciava. E moriva. Di tutti. Di tutte le nazioni. Italiani, russi, romeni, ungheresi. Gli ultimi sono stati gli ungheresi a venire in campo. I maggiari. Noi chiamavamo i maggiari. Senta, ma è rimasto sempre in quel posto oppure l'hanno di nuovo trasferito? Di nuovo mi hanno rimasto trasferito un'altra volta. E sono andato. Io sono stato liberato a Einisdorf. E' vicino Berlino. E' una paella vecina. Perché mi sono trovato che i tedeschi ci mandavano nel centro della Germania. E i russi. Ma pochi chilometri. C'eravamo i russi vicino. Mi sono trovato. Mi sono dormito dentro un gran casale. Un gran casale. E c'era con noi il sindaco della città. Si chiama... Insomma non mi ricordo come si chiama in tedesco. E stava con noi. E lui mi faceva a me. Io sono uguale a voi. Non è dovete dire che sono differente. Si chiamano sempre da scusare. Perché lo sapevano pure loro. Che stavano al momento. Io ho dormito signora. Da notte. Mi sono orsato. Ero libero. C'erano i russi. I russi sono... Come erano sporchi. Pure in divisa. Erano un po' malandati. I russi sono andati. I russi. Una che vi chiedevano bene in divisa. Come abbiamo visto l'Americania. Un'altra volta. Senta ma i russi come vi hanno trattato? I russi ci trattavano. Ci trattavano bene. Ma come mangiavano? Non c'erano manco per loro. E quindi? Io avevo tre varigie di... Pensi ho svarigiato una tabaccheria. Ho trovato... Senta. Due varigie di sigarette. Tanti tanti soldi. Marche d'occupazione. C'era una valigia piena di marchi d'occupazione. E... Pensi... C'eravamo tanta di quella birra. Che l'acqua non c'era. Se lavavamo con la birra. In quanti vi hanno liberato? Tanti tanti tanti. Eravate tanti. Nonostante i tanti morti c'erano ancora molti di prigionieri. E dove vi hanno sistemato? Vi hanno messo in qualche caserma? Disorganizzati signora. Disorganizzati. Io me ne andavo per conto mio. Perché se dovevo mangiare non mi davano niente. C'era un'interprete italiana che parlava... Una volta mi ha chiesto lei un favore a me. Che vedeva che io parlavo... Parlavo il tedesco e mi disse... Leo devi farmi un favore. Mi dovresti andare a prendere dei colli... Dei colli in una stazione. In una stazione c'erano dei carettiri. Io con altri amici erano italiani. Due napoletani. Era uno che c'era... Era di Caserta. Eravamo tutti quanti italiani. E andiamo andati a questa stazione. Vedendo la stazione... Abbiamo visto da lontano... Di americani. Io signor americani non avevo mai visto. Come erano vestiti. E ho fatto un esempio tra uno e l'altro. Mi vende un americano signora. Mi guardò e mi dice... Quale nazione sei? Io faccio sei italiano. Ah sei italiano? Parlavo un pochettino italiano. Mi fanno... Dette che parte sei dell'Italia? Sono di Roma. Ah... Donne bellissime a Roma. Mi faceva le donne che... Però a me... Che cosa mi ha colpito? Le donne di Catania. Signora... Ci ho già riconto un particolare... Le sagrize i capelli. Sentite cosa è successo. Mi faccio le fatte sbagli. Perché a Roma... Io sono di Roma. E lei parlava ben italiano. Mi disse... Ponte Calipaldi... E lui... Mi citava tutti i bozzi di Roma. Dice... Però... Le più belle donne... L'ho vista a Catania, mi pare. Ma guarda che a Roma pure c'erano le belle donne. Scavola... Ti ha capito? Dice... Ma vuoi che ti dico una cosa? Io ho fatto pure l'amore con una... Una signora di Catania. Il signore c'era la fotografiera... E' la moglie di questo... Era prigioniere. No... Veramente una cosa incredibile. Signora... Questo di Catania mi fa... Leo... E' la mia mortiera. Ma che si dice? Che dico che era la mia mortiera? Ma guarda che è tutto sbaglio. Il signore Ramos... Che è successo? Che è successo? Che abbiamo cercato di calmare le cose... De calmare... L'incidente che ha detto... Guarda quello... Capace... Allora... Lì si è andata nella fotografia... Cercare di modificare le cose... Giuro... Tutta la mia famiglia... Ma più di una volta... Che io... Non si poteva da pace lui... Non si dava pace... E quanto tempo è rimasto in quelle condizioni? Quando... In quelle condizioni sono rimasto... Qualche giorno... Dopo ho lasciato tutta la roba... E sono passato da parte americana... Ho fatto la... C'era una cabina... E' elettrica... Che ci avevano fatto nel reticolato... Un buro... E vedevi la bandiera americana... Io c'era la bandiera russa... A Berlino proprio... Presi la metropolitana... E sono passato dall'americana... C'era un negro... Stato a due metri... Mi faceva così... E io... Ci sono andato... La prima cosa che... Mi hanno detto... Di che nazione ero... Mi è venuto un policrotta signora... E mi ha fatto... Di che nazione sei tu? Io sono italiano... Di che parte d'Italia sei? Io sono di Roma... Signora... Lui conosceva Roma... Meglio che la conoscevo io... Vurdo sapere... E l'ultimo mi ha detto... Sai perché ti ho fatto tutte queste domande? Perché molti tedeschi... Cercono di intrupolarsi... Noi facciamo queste cose... Perché se vediamo che... Che non lega... Li rimandiamo indietro... Ma lei non aveva un documento... Come ex deportato... Ma sì... I russi non gli avevano dato nessun documento... Niente... E allora... A questo punto... Lei è stato registrato... Dagli americani? No... Dai russi... No... Ma a me non mi hanno dato niente... Volevo sapere... Quando lei è stato liberato dai russi... I russi non vi hanno presi i nomi... No... E quando lei è andato dagli americani... Gli americani non vi hanno registrato... Io sono una cosa... Solo una cosa è capitata... Quando io sono andato a Buchenwald... Ci sono stato un mese a Buchenwald... Guarda... Mi hanno registrato... Sotto un altro nome... Numero... No questo... Mi hanno dato un altro numero... Mi disse... Il numero che tu c'hai a braccia... Un conto a niente... Tu adesso c'hai... Ma questo lo sapevo signora... Ma quell'altro no... Era difficile... Da capire... Erano dei altri numeri... Dopo sono passato... Mi sono trovato libero... E è passato tutto qua... Ma quello che volevo sapere... Per rimpatriare... Lei aveva bisogno... Di un documento... Che lei era un ex deportato... Era rimpatriato da solo... Io sono rimpatriato... Ho visto una tradotta... Che andava in Italia... Io sono sceso a Bologna... E da Bologna... Ho preso un'altra tradotta... Che io andavo a Roma... Mi sono sbagliato... Perché invece... Da andare... A cosa... A Roma... A Montesavello... Sono andato... A cosa... Come si chiama... A San Paolo... Mi sono sbagliato... E io ho detto... Dovevo prendere il 23... E c'era la circolare... Che... E sto montando là... Successo... La prima cosa... Che ho guardato... Che io mi credevo... Da quell'esperienza... Che ho avuto io... Che il Tempio non esisteva... Io... Io... Delle esperienze... Che ho visto... Le maniere... Che ho visto... La mia vita... Credo che il Tempio... Non esisteva... Invece... Grazie a Dio... Lo baciavo... Così... E passo passo... Ho incontrato... Un ragazzo... Che adesso c'è un negozio... Qui in Virginio... Che è andato a scuola con me... Era Davide... Davide... Mi lascio immaginare... Uscivano dalle case... In rapporti... E chiamavo io... Una cugina mia... Che si chiamava Letizia... E va a sbagliare... Mi sbagliavo... La chiamavo Italia... Invece... Poi l'Italia... Che è morta... Il Campo... Si giovanera... Si giovanera... Si ricorda... Che giorno era... Quando lei è arrivata a Roma... Che mese... Non si ricorda... Era agosto... Era agosto del 45... Il 45... E come hai trovato il ghetto? Ho trovato... No ma... E ha trovato tanta gente... Come ha trovato... Tanta... 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 Che me conoscevano... Tutti quanti... Che ero ragazzino... Lo sapevano che ero io... E schiappavano tra le case... Mi portavano a vedere... Le fotografie... Me la dico... E speriamo che viene... Tanti veramente... L'avevo visto morire... Non gli ho mai detto... Che l'ho visto morire... Gli ho dato sempre un filo di speranza... Lei è tornata a casa sua... E' salita a casa sua... A casa mia... E' andata a casa sua... Ed era solo... Solo... Ed è rimasto solo... Solo... Quando ha saputo che i suoi... Non tornavano più? Chi gliel'ha detto? Me l'ha detto un polacco... Allora... Allora... Ma non... Dopo poi non ha saputo... Dove sono morti... Quando... Nulla... E allora... Lei si è trovato solo... In questa grande casa... In questa grande casa... E che cosa ha fatto? Niente... Vivevo in casa... Ha rivenuto mio... Mio fratello... E stavo con mio fratello... E che lavoro ha cominciato a fare? Quello che facevo prima... Ha riaperto il negozio? No... Un negozio... Un magazzino? Mi comprai un... Un camioncino... E facevo il lavoro che faceva... Non lo facevo direttamente con la mia famiglia... Poi ho conto... La merce che compravo... La rivendevo subito... Capito? Per cercate... Quando sono stato in grado... Di lavorare per conto mio... Ho lavorato per conto mio... E a questo punto... Quando si è sposato? Era giovane? Quando si è sposato? Siamo 18 anni... Subito si è sposato? Subito... E questa ragazza che ha sposato... La conosceva già? Questa ragazza... Aspetti... Che mio... Mio amico... Anselmo... Che sarebbe il fratello... Noi giocavamo a pallone... Allora mia madre... E diceva... Non mia madre... La mamma... Gli diceva... A mia moglie... Vai a prendere l'acqua dei trei... Che lo sanno sebrai... Che noi andavamo a prendere l'acqua dei trei... Lei lo sa cos'era l'acqua dei trei... Sentami... Ma porti... Tutti... Nelle famiglie... Andavamo a prendere i piaschi... Andavamo a prendere... St'acqua... De trei... Che è un'acqua leggera... Come... Com'era... Dove ne andavate a prendere quest'acqua? Andavamo a prendere... A parte... Ho capito... Portavate i bottiglioni... I bottiglioni... Perché non c'era l'acqua corrente in casa... Non c'era l'acqua corrente in casa... Non c'era l'acqua corrente... Ma volevate quest'acqua... Qui quest'acqua... Era capito e c'era... Andavamo a prendere la fontana... L'acqua... E allora lei... Io... Stavo con mio cognato... Immaginavo che era mio cognato... Era un amico mio... E mi sono rivolto a lui... Gli ho fatto... Anzi... Ci dite che mi piace quella ragazza? Mi dice... Mi dice... Ma sai chi è quella ragazza? Perché hai la fidanzata tua? No, no... È mia sorella... Tu sorella... Da allora... Ho cercato da... D'antodurmi... Sì... E quanto è durato il fidanzamento? Due anni... Due anni... Sua moglie... Come si chiama? Si chiama... Calorina... E... Come si era salvata durante la guerra... La sua famiglia? Stava... Prima è stata dentro una griglia... Faceva la... La portantina... Dopo... È dovuta andare per altre ragioni... È andata... In un posto... Che... Pensi... Ci impazzicavano i fascisti... Alla costa dei commercianti... E... Piano piano... C'è stata... E mia foccia... Per... Faceva... Cercava di organizzare... Alla borsa nera... E doveva andare a mangiare pure... A quelli che parlo già... E la mia foccia... Era una donna... Che non esiste non più quelle... Non esiste non più... Quindi... Sono rimasti a Roma tutto il tempo... Tutto il tempo... E quando vi siete sposati... Quindi... Mi racconta questo matrimonio... Dopo la guerra... Dopo la guerra... Ci siamo sposati... Dove? Giù... Al Porto d'Atari... Al Tempio Grande... Al Tempio Grande... E... La signora... Sua moglie era vestita di bianco... Sì... Quindi... Già si trovavano... Gli abiti un po' più eleganti... Sì... E quanti eravate... Quanta gente è venuta al matrimonio? Siamo stati in centinaia... E dove siete andati poi a fare il ricevimento? Ci abbiamo fatto una cena... Qui a Monteverde... Dove si chiamava... Ristorante Alpino... E... Insomma... Siamo stati bene... E dove siete andati a abitare dopo? No... Siamo stati a abitare... Cioè a casa sua? A casa mia... E c'era sempre anche suo fratello? No... Mio fratello... Non c'era... Mio fratello abitava... Dato che mio fratello si era... Unito con una cattolica... E... Mio fratello faceva la vita per conto al suo... E io... E io e mia moglie facevamo la vita per conto al suo... Quanti figli avete avuto? Noi abbiamo avuto cinque figli... Quanti maschi? Quante femmine? Cinque femmine... Quattro femmine è un maschio... E... Sono nati uno dietro l'altro? Sì... Uno... No... Uno in ogni periodo... Un po' più... Un 2-3 anni... Differenza tra una e l'altra... E la moglie... Sua moglie lavorava? O si occupava dei bambini? No... Si occupava solo dei bambini... E lei ha fatto questo lavoro dei rottami per tutta la vita? Sempre? Per tutta la vita... Avevo fatto sempre quello... E... Non sapevo fare altro... Senta... Lei frequentava l'Associazione Nazionale Ex Deportati? Vedevi i suoi vecchi compagni di deportazione? No... Non l'ho mai... Ma questo ricordo del campo... Gli ha provocato delle difficoltà? Sì... Molte difficoltà... Che tipo per esempio? Non riusciva a dimenticarlo? No... No... Non c'era sera che noi... Non discutevamo sempre della prigionaria... O c'era una maniera... O c'era l'altra... Ti veniva sempre in mente... Qualsiasi cosa che noi facevamo in casa... Eh... Ve li ci riveniva in mente... Ve li veniva in mente... Ve li veniva in mente... Quei cosa... Dalla prigionaria... Lei ha raccontato tutto i suoi fini? I miei figli si hanno raccontato... Mi facevano domande... O era lei che raccontava? I miei figli... Ci sono delle cose... Che non me le domandano... Perché sono molto delicati... Ma però lei ha raccontato sempre... A mia moglie... A mia moglie... Mia moglie è già tutta la vita mia... Ci sono delle cose che tante volte... Io le dimentico... Me le ricordo a mia moglie... E a questo punto... Lei ha visto film... Leggeva libri... Sì ho visto... Era una cosa che quindi... Cercava in qualche modo... Cercava in qualche modo... Mi dava come... Come se mi scaricassi... Sente ma lei ha avuto... Delle conseguenze fisiche... Sì sì... Per questo... Per il lavoro che ha fatto... Nelle miniere... Che tipo di problemi? Io ho... C'ho la schiena... Che non la posso più moda... Tutti i giorni... Tutti i giorni... Mi passo delle creme... Della schiena... Ma i massaggi... Mi fanno mia moglie... Se non ci avessi questa crema... La dovrei andare a... A procurarla... Ma lei è considerato invalido? Ha avuto l'invalidità? Sì sì... Che non mi ha servito a niente... Io ho un solo figlio maschio... Ho cercato di fargli... Sono andato al Ceglio... Ho fatto delle visite... Ho fatto tutto quanto... Di cercare... Di mio figlio... Non fargli fare il militare... Ma non ha servito a niente... Sono andato in tutte le parti... Mi hanno fatto contenta... E coglionata... Ma lei è invalido civile? Viene considerato invalido civile? No... No... Non è stata riconosciuta la sua invalidità? La mia invalidità... E ha avuto anche conseguenze psicologiche? Sì sì... Che tipo di conseguenze? Se non me lo vuol dire... No no no... Qualcosa... Questo non lo so io... La mia madre... Che lo sa... Certo... Posso parlare? Aspetta un attimo... Ho avuto ecco... Una grande depressione... E grazie a Dio ci sono uscito ancora... Senta... Lei frequenta spesso i suoi nipotini... Ha dei nipoti... Quanti nipoti ha? 10 nipoti... E gli danno molto lavoro? No... Anzi... Mi fa molta allegria... L'ho veduto ieri sera... E vengono sempre da lei... Per le feste... Stati insieme? Sì sì sì... E i suoi nipoti abitano tutti a Roma? Sì... E i figli si sono sposati tutti? Tutti tutti... Tutti quanti... E tutti hanno figli? No... Una sola non ha figli... I bambini vanno alla scuola ebraica? Sì... Tutti? Quindi insomma... Lei può dire che ha avuto una vita molto dura e molto difficile... Ma si è anche realizzato... Sì... E... In qualche modo... Se dovesse fare un bilancio della sua vita... Che cosa direbbe? Che incominciate male... Do non ripassare... Do non ripassare più il campo di concentramento... Lo augura ai ragazzi... Senta... Posso stare discutendo da qui... A quando vorrei... Ma non capirete niente... Non capirete mai quello che abbiamo già fatto... Delle cose più... 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 Sozzere... Atroce che ci sono... Però lei ha dimostrato di essere una persona... Molto ottimista... Perché... Si è sposato... Due anni dopo l'uscita del campo... Quindi vuol dire che lei dentro... Aveva fiducia nel futuro? Io sono sempre dovuto avere fiducia... E sono molto credente io... E lei è un ebreo servante? Sì... Va al Tempio... Come non ci vado... E il dovere mio l'ho sempre fatto... Signor Sabatello... Ancora qualcosa che ci vuole raccontare... Altrimenti... Basta così... Grazie infinite... Grazie...